Consigliere, la riforma della legge elettorale toscana che esce da questo accordo PD-Forza Italia presenta dei profili di incostituzionalità secondo qualcuno e lei ha detto che siamo di fronte a una deriva autoritaria. Diciamo una svolta autoritaria ed una vera e propria legge truffa. Per il combinato disposto di soglie inventate si rischia che una coalizione che abbia più del 10% se nessuna lista supera il 3% non avrà un eletto o altrimenti una coalizione di oltre il 10% con una sola lista al 3% tutti i seggi andranno a quella lista. In parole povere, votando non si sa chi si vota e non si sa chi andranno i voti. È stato tolto il principio di uguaglianza del voto ed è stato tolto il principio della sovranità perché del voto se ne fa l'uso finale che i due partiti padroni vogliono. Questa è una legge per risolvere i problemi di Forza Italia e anche del PD consegnandogli questi ricati loro potranno imporre ai propri alleati le condizioni che vogliono e questi saranno obbligati ad accertarli sperando di raggiungere il 3%. È una legge gravissima. Lo ripeto agli elettori, quando si vota non si sa chi si vota e non si sa chi andranno i voti.